Buongiorno, bentrovati amici e amiche di Teleradio Padre Pio, ci ritroviamo insieme all'interno della rubrica Un frate per amico, quest'oggi ospite nei nostri studi, Fra Guido Ficocelli. Buongiorno, benvenuto. Grazie. Fra Guido, tu sei il frate minore cappuccino della provincia di Bari, grazie per essere stato qui. Ecco, noi all'interno di questa trasmissione vogliamo un po' conoscere la storia di vocazione e quest'oggi vogliamo un po' conoscere la tua, partendo un po' da quando eri bambino, ci spiegherai tutto il tuo percorso che poi ti ha portato a diventare frate. Chi era Guido Bambino e quali erano i tuoi sogni? Allora, innanzitutto grazie dell'invito e grazie anche alla redazione di Teleradio Padre Pio, saluto anche chi ascolterà questa intervista. Ecco, parlare della propria vocazione non è sempre facile. E quindi cercherò veramente con l'aiuto dello Spirito Santo, almeno che ricordi gli aspetti più salienti, ecco, che hanno accompagnato un po' la storia di questa mia vita e soprattutto ecco la domanda particolare, precisa che tu mi hai rivolto, chi era Guido da Bambino? Ecco, Guido da Bambino era un Guido normale, come tutti i bambini, che nel periodo, diciamo, del catechismo, ecco, hanno iniziato, ha iniziato il suo percorso. Tu sei nativo di? Io sono nato a Bari, ecco, sì, sono nato a Bari, appunto abbiamo un nativo di Bari, la mia mamma di Noci, un paesino appunto a pochi chilometri di Bari, sì, e sono nato in una famiglia normalissima, quando ho iniziato il mio catechismo ho iniziato a scoprire il mio innamoramento anche verso l'istituzione chiesa e diciamo che ho iniziato anche a frequentare assiduamente la messa, anche come amministrante, quindi ho avuto i miei primi amori, ecco, verso la liturgia e così, insomma, è andata… Ma cosa sognavi? Da grande diventerò, da grande devorrei essere… Ecco, nel mio caso, Simona, non c'è stato un sogno già chiaro a quell'età, diciamo che tutto è accaduto dopo, quando sono cresciuto, però in quegli anni sinceramente pensavo ad altro, tanto che il mio percorso di vita mi ha portato a fare delle scelte anche precise per quello che rappresentava già la mia idea che poi si sarebbe espletata nel futuro. Ad esempio, io avevo il mio papà che lavorava all'Enel, per cui sai, si pensava che io potessi un giorno prendere il suo posto… E quindi ho dovuto fare le scuole industriali, io mi meraviglio ancora oggi come abbia potuto, però un po' per interesse egoistico, se vogliamo, proprio perché c'era questa possibilità, vedevo appunto in lontananza una cosa… Cioè, si poteva concretizzare. Si poteva concretizzare, per cui ho fatto gli studi e quindi mi sono diplomato, però io coltivavo vari sogni, devo dire, tranne quello poi di diventare sacerdote, frate, perché una cosa che mi ha sempre accompagnato è stata anche la voglia, dico il desiderio di diventare medico, tant'è vero che io al termine del diploma, trovandomi a Bari, ecco, e avendo la nostra Università il Policlinico, ho frequentato per due anni appunto l'Istituto, la Facoltà di Medicina, perché era nelle mie intenzioni per seguire questo stato di vita, ecco, questa professione. la vedevo anche molto inerente appunto alle mie possibilità, anche ai miei sogni, alle mie passioni, ecco. Una passione che voglio dire coltivo ancora adesso, perché sì, perché mi piace ad esempio leggere molte riviste scientifiche, tenermi un po' aggiornato anche su questi temi, ecco, sulla medicina, sulla ricerca, sì, sulla ricerca appunto. E poi è accaduto, ecco, qui fosse accaduto il fatto più importante della mia vita, perché all'età di 17 anni, ecco, all'incirca, tutti sapete che sono periodi un po' difficili anche che un ragazzo o una ragazza può attraversare, ecco, incontrando un vecchio amico di scuola, mi propose di aver incontrato la verità. Lui si è espresso proprio in questi termini. Io un po' incuriosito gli ho chiesto ma che significa la verità, incontrare la verità. Al che lui si è fatto più chiaro e ha detto sai, sono testimone di Geova. Al che io, evidentemente, anche perché in quel momento iniziava una ricerca, perché devo aggiungere che io nel frattempo, dopo quel servizio che rendevo alla chiesa parocchiale, dove io avevo ricevuto anche i sacramenti, mi ero allontanato. Come succede un pochettino, lo sappiamo, tanti giovani che fanno catechismo e poi magari si disperdono, scelgono altre strade. Nel mio caso, ecco, questa proposta ha tecchito, per cui io, un po' incuriosito, se vogliamo, ho incominciato a frequentare questo luogo dove si radunavano queste persone e diciamo che il percorso è iniziato anche, almeno con una certa serietà, considerando l'età, ovviamente, anche l'abilità che molte volte psicologicamente uno può attraversare, anche il momento, ho detto proprio riguardo all'età e ho cominciato questo percorso, Simona, sì. Poi un bel giorno, ecco, è accaduto qualcosa, io dico, di straordinario, perché se tu oppure i telespettatori dovessero chiedersi ma che cosa è successo, che cosa è accaduto… Certo, due strade, ecco, uno pensa alla svolta, è stato l'incontro con il Signore, invece tu sei passato, ecco, prima da questa esperienza… Esattamente, esattamente, per poi approdare a questa nuova, questa che praticamente ha determinato e determina il mio presente, la mia vita, perché io un bel giorno, non è successo nulla, lo ricordo molto bene, non ho sentito più quell'entusiasmo che… ma proprio una cosa improvvisa, per cui io dopo, credo, due anni, se ricordo bene, sono rientrato in una chiesa, la chiesa, diciamo, della mia parrocchia di appartenenza, perché intanto i miei genitori avevano cambiato casa, quindi… Sei ritornato. Sono ritornato in questa chiesa e ricordo ancora molto bene, molto vivo nella mia mente questo ricordo, io mi sono fermato un po' disorientato vicino all'acqua santiera di questa parrocchia di Bari, che è vicino al punto del Policlinico, la parrocchia dei Frati Minimi, ecco, con esattezza, e ho visto in lontananza, ecco, i primi banchi, c'erano alcune donne che fosse, non so, facevano pulizia oppure chiacchieravano tra di loro, ma una in particolare, una signora anziana, è venuta esattamente verso di me. Il perché non lo so, non gliel'ho mai chiesto, però lei… Sicuramente non per caso. Non per caso, sono sicurissimo, perché credo che il caso per noi cristiani, per noi uomini di fede non esiste, ma tutto è provvidenza. Insomma, è accaduto che questa signora, proprio con una certa forza, ha detto, guarda, voglio dirti che qui ci sono dei giovani che vogliono mettere su un gruppo, perché non ne fai parte anche tu? Questa è stata la proposta, è iniziata lì la proposta, da questa signora anziana. La devi a questa signora, il tuo cammino lo devi? Credo che sia stato un anello di questa catena, perché nella mia storia poi ci sono state tante persone che hanno contribuito, queste persone che oggi io chiamo benefattori o benefattrici, anche spirituali, ecco. Ricordo che mi ha accompagnato dal parroco, io ho parlato col parroco, il parroco mi ha detto sì, dice lei ha bisogno appunto di iniziare un cammino, avevo comunicato tutta la mia esperienza passata. E io ben volentieri... Ma non ti sei chiesto perché da essere frequentare... No, perché l'idea dei testimoni di Gio intanto mi era completamente passata. Devo dire anche che in un certo senso c'è stato rispetto da parte di questa gente, perché evidentemente ha capito, anche voglio precisare a te Simone e anche a chi ci sta ascoltando, che io non ho fatto un cammino con delle tappe più impegnative per quanto riguarda appunto questa gente che frequenta appunto i testimoni di Gio, questa religione. Praticamente mi è stato facile anche un po' passare, lasciare, allontanarmi. Poi insomma siamo liberi, nessuno mi poteva anche... E niente, poi ricordo molto bene questo consiglio prezioso di questo frate minimo di San Francesco da Paola il quale appunto ha ritenuto opportuno affidarmi a un altro suo confratello che diventava la nostra guida spirituale. Terminato questo incontro io, va bene, ho cominciato a conoscere... Quanto era parte della tua famiglia questo cambiamento? Prima questa strada, poi l'altro? Una domanda molto bella e giusta che chiunque... Ecco io forse da mamma dico... forse i tuoi hanno voluto capire meglio ecco perché prima questa strada, poi la decisione invece di entrare... Devo dire che onestamente ho fatto un po' tripolare i miei genitori, però lo dico in senso buono, non avevo nessuna voglia di farli diciamo soffrire... In questa tua ricerca ecco, davi qualche dubbio anche a loro... Perché loro in un certo senso, vabbè, siano convinti che io avessi preso questa strada, ecco l'idea del medico si faceva sempre più forte, per cui loro a un certo punto credevano di avere nel futuro un figlio medico e va bene... Medico testimone di Geova. Probabilmente sì, sì. Poi ecco, quando io ho iniziato il percorso nuovamente nella Chiesa Cattolica, devo dire che i miei genitori sono stati credo contenti, perché voglio precisare, i miei hanno rispettato la mia libertà, però sono convinto che avranno tanto sofferto in quello, perché insomma capirai bene, loro credenti, una famiglia di credenti, sapere del proprio figlio che poi insomma prende un'altra strada, insomma ora li capisco meglio, certamente loro mi hanno già perdonato. Non saranno stati momenti facili, però comunque anche l'amore dei tuoi genitori ti hanno dato questa libertà, questa scelta di... Esattamente, esattamente Simone. Poi dopo che ho iniziato questo percorso nella parrocchia è accaduto qualcosa di importante, ecco perché dicevo prima sono tanti anelli di questa catena, perché una ragazza di questo gruppo, che era a conoscenza di altri gruppi, mentre io ero proprio un po' all'oscuro, perché la mia esperienza in Chiesa è stata solo quella del padre catechismo, amministrante, poi finito lì, non è che avessi una conoscenza. E questa ragazza, lo ricordo benissimo come se fosse oggi, dice una sera a tutti quanti noi vi accompagnerò a un gruppo, però mi raccomando non ridete perché a un certo punto canteranno in una lingua sconosciuta, ma io non avevo mai sentito parlare di nulla, ho detto chissà, questa lingua... E sono andato, ricordo bene, a Bari Vecchia, si riuniva questo gruppo, ricordo ancora i telespettatori, io sono di Bari, ecco, e quindi questo movimento, ecco, perché poi ho capito di che cosa si trattasse, e devo dire che ci ha accolti in una maniera meravigliosa, con il canto, con la lode, con una veramente carità fraterna, non lo so, mi ha colpito, in particolare la gestualità della preghiera, insomma tutto questo. Allora ho chiesto alla responsabile in particolare di una persona e lei ha detto, guarda, devi conoscerla, devi incontrarla. Si trattava di una signora, ecco, una signora direi abbastanza inserita, una donna di grande fede, che se mi dovesse ascoltare io la voglio salutare volentieri, insomma, che praticamente mi dice, sì, mi vuole incontrare, e da allora è nata una certa amicizia spirituale, perché questa signora riusciva anche a raccogliere, ecco, attorno a sé tanti altri giovani, per cui con questa signora è nato un desiderio spasmodico di pregare, ecco, pregare, non ci stancavamo mai di pregarle, è ora anziana, io non la vedo da tanto tempo, però è una persona meravigliosa che appunto... Che ha aiutato proprio in questo cammino, in questo cammino di preghiera. Sì, tra parentesi questa persona era una anche laica consacrata che pregava appunto la spiritualità di Padre Annibale di Francia, che è il fondatore dei rogazionisti, che hanno come carisma quello di pregare per le vocazioni, rogate ergo. Per cui, insomma, io ho iniziato e devo dire che lì l'amore è incominciato a sgorgare, le voce d'amore che piano piano mi prendeva sempre di più, mi prendeva sempre di più. Ecco, in quel contesto ho incominciato a conoscere il rinnovamento nello spirito, ecco quel movimento che allora non capivo e invece poi ho capito. E devo dire con grande trasporto, ecco, questa volta devo dire con grande trasporto. Mentre i miei compagni della parrocchia, loro sono andati, sì, siamo rimasti. Allora io, quando potevo, andavo al rinnovamento, andavo anche in parrocchia. Anche da loro, certo. Ci sono state tante esperienze, molto belle, ho detto, è come un amore che cresce sempre di più. E allora io, a un certo momento, ho maturato anche questa idea. Nel frattempo mi ero iscritto, come ti dicevo, alla facoltà di medicina, però era molto, molto forte questa attrazione, questa passione, questo volestare con il Signore, quindi attraverso la preghiera, che io allora incominciavo, avevo le prime nozioni rudimentali di cosa fosse la preghiera. E così, Simona, è andata avanti un po' la mia vita. Poi ho capito che potevo, ecco, potermi consacrare. Ovviamente a quel punto ho chiesto ulteriori consigli. Sì, mi sono rivolto sempre a dei sacerdoti che ho ritenuto essere le mie guide, sono le mie guide. Ecco, ho conosciuto, diciamo, per primo, anche perché era un nome che è famoso nel rinnovamento dello spirito, padre Pancrazio Gaudioso, che oggi appunto è il fondatore di una bellissima famiglia, quella francescana di Betania. Ecco, e poi ho conosciuto la persona che sarebbe diventato il mio direttore, padre Lorenzo Invidia, che è stato anche il nostro provinciale, per cui ho sottoposto a loro e tutte e due hanno confermato un po' e mi hanno dato anche la spinta per dire, vabbè, inizia gradualmente il tuo percorso di accoglienza. E perché i cappuccini? Ecco, devo essere onesto, ho visto qualche frate cappuccino, però a differenza forse di altre storie vocazionali, dove magari uno, o perché ha visto una processione, o perché ha frequentato dei cappuccini, è una bella domanda che mi fai, perché mi fa ricordare un'altra cosa, che la mia mamma, in una confessione fatta a uno di questi frati, questo frate le avrebbe detto, ma signora, non capisco perché suo figlio non ha scelto la nostra famiglia, visto che noi siamo i minimi di San Francesco da Paola. Frequentando quella parrocchia, stando vicino. E mamma gli ha risposto, ma padre, non glielo saprei neanche dire, tanto è lo stesso, la mia mamma è una donna molto semplice, non ha pensato, ecco, chissà quali potessero essere. Diciamo che è stato un consiglio, ecco, un consiglio per me molto illuminante, un consiglio che ho preso seriamente in considerazione. Poi trovandomi, abitando a Bari, ecco, e sapendo che a Santa Fara ci fossero i cappuccini, ho escluso, ecco, voglio dirlo ai telespettatori, che l'idea del sacerdote diocesano non mi ha mai interessato. Ti si è reso conto che non era la tua strada. Invece quella di essere un religioso, sì. E poi, sono ospite in questi studi di Teleradio Padre Pio, e mi sembra doveroso e giusto dire che nel frattempo, perché anche questo è molto importante, io incominciavo a conoscere Padre Pio. Ma, attenzione, era lui che si faceva conoscere da me. Come? Qualcuno si chiedeva come si faceva conoscere. dalle testimonianze che mi offrivano varie persone che io incontravo in luoghi, in momenti diversi. E questo per me è stato uno spiraglio di luce, perché ho capito che nella mia vita anche Padre Pio faceva la sua parte. La sua presenza si faceva sentire. Sì, era determinante. E siccome quelle parole che noi abbiamo sentito e letto tante volte, quando Padre Pio dice, ognuno magari ha pensato, detto anche in maniera affettuosa, Padre Pio è mio, lui ha risposto, no, Padre Pio è di tutti. Nessuno si può appropriare di Padre Pio, ma Padre Pio è universale. E credo che proprio in questa sua universalità, in questo potere di intercessione che coinvolgeva tutta l'umanità, ecco, io credo che anche nella mia vita lui sia stato una spinta. Per cui ho iniziato il mio percorso. E anche qui la tua famiglia, il tuo ingresso, la tua decisione, come ha reagito? Sì, ti ringrazio per questa domanda, anche perché è una domanda che poi mi hanno posto tanti. Voglio dire a te, Simona, che mi conosci da poco, ma anche a chi ci sta ascoltando, che io sono figlio unico. Tengo a precisarlo. Infatti non te l'ho chiesto prima. Non ho fratelli e non ho sorelle. Figlio unico. E sono figlio unico. Allora, voi tutti comprenderete, ancora qualcuno oggi me lo dice, ma tua madre, tuo padre, come hanno reagito? Certo, uno avendo più figli dice, vabbè, uno lo offro al Signore. Il caso bio, invece, non è stato dei più semplici, anche comprensibili, devo dire, perché, Simona, tieni conto, una mamma e un papà, avendo un solo figlio, hanno i loro progetti. Fino a quando potevo diventare un medico, come era il mio sogno, sai la cosa, poteva essere anche tipo, sposarsi, avere dei figli, nipoti, e tutto il resto. Invece, nel caso che io, appunto, abbia detto un giorno, proprio, lo ricordo molto bene, abbia dato questa notizia, c'era la mia mamma e una mia zia, non ha reagito mia madre quanto questa mia zia, dicendole, riferendosi a mia madre, perché non lo prendi a schiaffi? Come se avessi detto, chissà quale notizia, scabrosa, orribile. E io devo ringraziare il buon Dio, devo ringraziare la Madonna Santissima, perché credo che la mia vocazione sia nata proprio dall'amore di Maria. Ecco, non tanto, come ti dicevo prima, abbia scoperto la figura di Francesco, che poi gradattamente, ecco, in un secondo momento, quando è una chiamata a Maria, ecco, la presenza di Maria, questa mamma mediatrice, questa mamma avvocata, questa mamma che si prende cura, che è premurosa, che viene incontro alle nostre necessità. e quindi io sono stato duro, ma attenzione, duro nel resistere, nella mia decisione. Però comunque la sofferenza c'era, nel veder soffrire, o comunque dispiacere ai tuoi familiari. Sì, sì, indubbiamente, pensavo più veramente a mia madre e mio padre, non tanto al resto della parentela, perché a un certo momento, io dicevo è libero di fare la propria scelta, poi qui, attenzione, parliamo di scelte di fede, perché dobbiamo stare molto attenti, non è una scelta umana. Allora, umanamente parlando, possiamo dire, peccato, come? Oltretutto mia mamma era anche sofferente, pure mio padre, quindi non è che... Però, umanamente parlando, sembrerebbe assurdo quello che io ho fatto. Però la scelta di fede impone, impone appunto una determinazione, anche nell'intraprendere un cammino. E devo dire che con l'aiuto di Dio, ecco, con l'aiuto anche di tante persone, iniziando dai miei confratelli della provincia, il mio direttore che ho citato prima, padre Lorenzo Invidia, voglio dire, mi hanno incoraggiato. Ma attenzione, è stato anche un incoraggiamento che è servito anche ai miei genitori. Andava di pari passo, e lo stesso andava di pari passo il mio cammino con il loro cammino. Cioè, loro piano piano capivano anche qualcosa di più. Se prima c'erano più lacribe, se prima, insomma, c'era questa atmosfera triste, cupa, poi loro pian piano hanno visto qualcosa anche di diverso, evidentemente, in me. Io dicevo, come il Signore farà dono a me di una vocazione che cresce, così anche loro cresceranno. E così è stato. Quindi la mia mamma mi ha accompagnato, però è accaduto qualcosa di doloroso. Ecco, voglio dirlo, perché anche questa è storia sacra della mia vocazione. Devo dire proprio storia sacra. Adesso capirete il perché. in quanto la mia mamma le è stato diagnosticato, insomma, una malattia un po' seria, per cui tutti quanti, insomma, ovviamente abbiamo proiettato, ecco, la nostra attenzione su di lei. e dopo varie visite, ecco, il Signore ha permesso, ma proprio perché tutti i medici che l'avevamo vista, tutti la orientavano qui a San Giovanni Rotondo, alla Casa Sollievo. Quindi lì è stata circa tre mesi e quindi anche io ho avuto l'opportunità di assisterla. Devo dire, grazie anche alla benevolenza dei nostri frati Capuccini, che sono, confratelli, siamo nella stessa ordine, anche se appartenenti a province diverse, però ci conosciamo, collaboriamo, io sono amico di tanti frati, abbiamo vissuto anche appunto a Bari, insieme, ecco, sono stato quindi vicino alla mamma. Ecco le parole profetiche di alcuni miei confratelli che le dicevano, ma guardi, Signora, che suo figlio sarà vicino a lei? E devo dire che si è proprio realizzato quanto loro avevano pensato, perché nel momento del dolore io e la mia mamma sono stato vicino. Io intanto dovevo essere ordinato sacerdote perché il mio cammino proseguiva e si era pensato, io allora vivevo a Giovinazzo, una delle nostre comunità di appartenenza e voglio dirlo ai telespettatori, non so, Simona, se questo può essere, perché diversi anni prima, quando io ero praticamente agli inizi, sono andato con la mia mamma a un'ordinazione di un altro confratello. In quell'ordinazione c'era questo vescovo conosciutissimo, Don Tonino Bello, che ordinava questo confratello. io non ero a conoscenza, forse non era anche noto a quei tempi Don Tonino, seppure le sue omelie come sapete destavano un fascino. Però ricordo benissimo che la mia mamma, più forte di me devo dire, io fosse preso dalla timidezza non l'avrei mai fatto, mi ha preso per mano e siamo andati in sacristia. Mi ha detto a questo vescovo, ha detto eccellenza, un domani lei deve ordinare mio figlio. Io sono rimasto così, però questa frase la riuscita. Beh, Simona, si è verificato esattamente quello che la mia mamma molto chiaramente perché io sono stato ordinato da Don Tonino Bello appunto nella cattedrale di Molfetta. E quindi la mia mamma intanto è venuta fuori da questa situazione dolorosa per cui si era ristabilita in maniera meravigliosa. Era proprio il periodo di preparazione alla mia ordinazione. Lei si è interessata in tutti i modi un po' come si fa anche nella vita matrimoniale, nel ristorante, la nocebazione, ha preparato nei minimi dettagli. Ha preparato, sì, devo dire. E niente, era felicissimo quel giorno, molto felice. Credo che neanche più il dolore abbia potuto avvertire perché c'era, predominava la gioia. era più grande, più forte. Sì, sì, per cui la mamma è stata presente e tutto è andato bene, ringraziato il buon Dio. Ecco, sicuramente l'esperienza per un frate, per un sacerdote, quella della professione, quella dell'ordinazione sono momenti indimenticabili, sono momenti davvero che ti segnano, ti danno. poi, come tu ci hai detto, Monsignor Bello era con te, Don Tonino era con te, è stato lui a ordinarti. Hai un ricordo ancora più bello di quei momenti? Beh, io ricordo solo questo, la sua passione. La passione e gli occhi che brillavano, era la gioia e anche la commozione di consacrarmi, ecco, sacerdote, di vedermi lì sull'altare pronto a indossare i paramenti sacri, pronto a diventare sacerdote per sempre. Questo lo ricordo e anche, come sempre succedeva, ecco, lui ha fatto un'omelia meravigliosa, ecco, ha lanciato proprio dei messaggi molto forti che hanno colpito un po' anche tutta l'assemblea. Ti hanno segnato anche nel tuo percorso. Sì, sì, devo dire, anche se, voglio dirlo per conoscenza, ecco, a quei tempi ero cappellano spedaliero, ecco, perché poi da quella storia di medicina che io perseguivo, il mio direttore evidentemente in un discernimento che lui ha fatto ha pensato che io potessi inserirmi in questo campo, ovviamente, prima da frate, da studente, perché ho iniziato col frequentare l'istituto oncologico, l'ex istituto oncologico di Bari, e poi da sacerdote inserirmi come cappellano, per cui io per ben 12 anni ho esercitato l'attività di cappellano appunto al policlinico di Bari. E poi è accaduto di nuovo qualcosa diciamo di doloroso perché il dolore umanamente c'è. Sì, perché la mia mamma dopo quattro mesi della mia ordinazione è deceduta e quindi ha avuto la grande gioia ecco di essere lì presente fisicamente col suo corpo e quindi di assistere alla grande festa del mio sacerdozio però dopo e quindi io ho continuato il mio percorso sacerdotale il mio papà nel frattempo anche lui ha avuto dei problemi seri perché per una insufficienza renale è andato incontro alla dialisi e quindi anche per lui un percorso un salvario ecco di sofferenza però devo dire tutto questo non mi ha creato ansietà oppure abbattimenti perché ho creduto sempre nel loro amore nell'amore intanto della mia mamma che era partita e anche del mio papà che continuava insomma a manifestare anche il suo affetto la sua bontà un uomo silenzioso forse questa cosa ecco nella storia mia vocazionale potrebbe anche interessare incuriosire gli ascoltatori perché potrebbero chiedersi il papà ecco poi come ecco anche per questo vorrei proprio dirlo all'ode gloria di Dio e anche di riconoscenza e cura pubblica in una televisione che faccio ai miei confratelli perché un giorno ero molto giù perché vedevo papà rientro dalla dialisi molto sfinito e in quel momento ho pensato anche se mio papà avrebbe chiesto un aiuto cosa sarebbe successo avrebbe avuto tutto il tempo per alzare il telefono e chiedere aiuto allora ho detto a mio padre che ho citato già più volte mio padre Lorenzo ho detto padre guardi io dovrei andare più spesso tra il papà a che lui mi guarda e mi dice no sarà il tuo papà venire qui da noi e io sono rimasto come padre non l'avevo proprio pensato immaginato ma immaginato Simona e quindi papà ha vissuto con me in convento perché io in quel momento ero responsabile anche della nostra ala di infermeria papà era proprio accanto a me quindi ovviamente perché sono figlio unico tengo a precisarlo perché questa è stata una cosa una condizione ecco perché eri solo tu in quel momento che potevi aiutare i frati me lo hanno concesso ecco sì e poi quindi papà è stato un po' di tempo con noi e però anche le sue condizioni si sono aggravate e anche lui è deceduto quindi la mia mamma è deceduta da una ventina d'anni e papà sono 14 anni ormai che appunto sono però ecco voglio dirlo ecco ora mi rivolgo soprattutto ai giovani credo Simona sì ti volevo proprio chiedere ecco al termine anche di questo tuo racconto noi lo diciamo sempre e questi racconti ecco queste questi ricordi anche del passato sicuramente servono anche a tanti giovani che sono in ricerca come testimonianza molte volte serve più una testimonianza di vita che tante parole così però adesso io ti voglio proprio chiedere di lanciare un messaggio ai ragazzi che sono in ricerca vocazionale o comunque ragazzi che si avvicinano ad una scelta importante nella loro vita e con tuo messaggio sì io il messaggio che voglio dare ai tanti giovani che avranno l'opportunità di appunto guardare questo angolo è quello di non avere paura ecco che poi sono le parole di Giovanni Del Beato Giovanni Paolo II non abbiate paura io devo dire che nella vita ho trovato un grande sostegno perché si ha bisogno anche del sostegno quello visibile perché Dio che è l'invisibile si fa visibile e si incarna devo dire che questa parola di Dio che c'è e che vi invito proprio a scoprirla sempre di più perché la parola c'è e non possiamo negarla ecco è una parola che si fa viva che si incarna nel tessuto quotidiano nelle persone che fanno esperienza di Dio e io ho trovato ecco questi fratelli ho trovato una grande famiglia che mi ha incoraggiato mi ha sostenuto per cui di quei giovani che vogliono consacrarsi al Signore di non essere paurosi di non essere perplessi ma anche di lanciarsi ecco con coraggio non perché bisogna essere irresponsabili perché qualcuno potrebbe dire eh beh è troppo facile quello che sta dicendo con le dovute attenzioni prudenze col discernimento ecco noi abbiamo questa Chiesa questa Chiesa che ha proprio il compito di discernere per cui dico a un giovane che magari sta già coltivando ecco nel suo cuore l'idea di consacrarsi l'idea di scegliere un istituto una famiglia di affidarsi anche dei buoni padri spirituali oggi chiamati direttori spirituali e fidarsi ecco io lo dicevo prima Simona ho trovato tante persone laiche ma anche consacrati che veramente sono convintissimo che sono stati luce per me sono stati sicurezza sono stati forza e ancora oggi ancora oggi perché io dico più il tempo passa e più io incontro questa famiglia si allarga credo che solo da parte nostra deve scattare qualcosa ecco una generosità maggiore una disponibilità maggiore un impegno un desiderio maggiore perché è evidente che scegliere la vita consacrata ecco affidarsi a una famiglia religiosa significa soprattutto scoprire il grande amore di Dio fare esperienza della sua misericordia ecco questo voi giovani sappiatelo scoprire ecco la misericordia non ci deve impaurire il peccato non ci devono impaurire anche le nostre esperienze negative noi sappiamo nella vita di Gesù come lui si è chinato sempre sulle miserie umane come non si è mai scandalizzato e quindi ancora oggi Gesù non è cambiato non è cambiato affatto per cui lui ancora oggi si china su di noi e ci incoraggia ci stimola a riprendere il nostro cammino ad andare avanti per cui voglio dire abbiate fiducia ecco una fiducia che ovviamente deve sempre crescere di pari passo fede, fiducia ecco abbandono confidenza e poi noi entriamo in una bella famiglia ecco la famiglia dei frati Capuccini per dire o anche qualunque altra famiglia religiosa ecco è una famiglia quindi troviamo dei fratelli troviamo tanti aspetti che gratificano anche la persona umana anche se attenzione non dobbiamo cercare tanto la gratificazione umana quanto lo sappiamo bene la gloria di Dio e nella gloria di Dio il Signore sicuramente penserà al bene della nostra anima Simona io ti ringrazio soprattutto per queste tue parole ti ho un po' costretto ecco tra virgolette nel raccontarci la tua la tua storia però davvero penso sia servita a tanti ecco tu hai parlato di famiglia noi è questo il nostro spirito quello che vogliamo creare una famiglia con i tanti telespettatori tante persone che sono lontane da San Giovanni Rotondo persone che non possono sono malate non possono partecipare alle celebrazioni non possono conoscere ecco la nostra emittente è proprio questa creare una famiglia e ringraziamo te per essere io ringrazio te Simona e ringrazio tutto lo staff perché devo dire che è la prima volta che entro in questi studi ma ho trovato veramente una bellissima accoglienza a parte tua del camera del regista di tutto lo staff ecco non faccio nomi perché no 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 siamo tutti una famiglia e cerchiamo ecco questo è il nostro intento e devo dire che siete veramente una bella famiglia grazie perché voglio dirlo ai telespettatori all'inizio ero un po' titubante ma perché l'impatto con le telecamere insomma non è per me invece come hai visto è stata una chiacchiera però devo dire che voi siete stati meravigliosi e quindi avete favorito anche questa mia tranquillità nell'offrirvi ecco certo ho detto ancora poca cosa ecco magari tante altre cose si potrebbero aggiungere però voglio dire questo impatto la tua testimonianza è stata gradita io ti ringrazio perché davvero hai aperto il tuo cassetto dei ricordi le tue emozioni più forti e soprattutto perché ecco ci hai raccontato come il signore è entrato nella tua vita grazie ancora di cuore grazie e grazie ai telespettatori un saluto a chi mi conosce se è possibile e anche a chi non mi conosce ma che avevo il piacere anche di conoscere incontrare ci sono tante possibilità poi la televisione apre un po' anche queste conoscenze una volta che si vede qualcuno in tv poi lo si incontra e dice ma tu fra Guido ti abbiamo ascoltato e voglio congedarmi con il pubblico un saluto francescano di pace e bene bene pace e bene a te noi concludiamo questo spazio l'appuntamento la prossima settimana